Siamo qui ragazzi con il set Team Rocket prima edizione italiano dei Pokémon Allora, andiamo subito ad aprire l'accoglitore Allora, il set è tutto completo come i primi 3 che vi ho fatto vedere Ovvero il set base, il set jungle, il set fossil che andrete Se non avete visto andate a vedere, scorrete nel mio canale Ci sono anche varie aperture di buste italiane, giapponesi e coreane Che sono le più brutte, infatti mi sono fermato nel collezionarle e non le ho collezionate più Anche se ritenevo quelle carte buone però alla fine sono molto economiche anche dal prezzo Perché ogni box costa 17€ Quindi veramente... evitatelo ragazzi perché spendete solo soldi perché la qualità delle carte non è granché Allora, partiamo subito con il set Team Rocket Quasi tutte prime edizioni ma non tutte purtroppo Allora, queste qua le prime edizioni le ho sbussate io Ecco qua, Dark Alakazam, Dark Harbok, Dark Blastoise Infatti se andate a vedere il mio canale troverete proprio l'apertura del box E di altre buste del Team Rocket prima edizione Abbiamo Dark Charizard, Dark Draconite, Dark Dugtrio Poi Dark Golbat, Geridos, Hypno Ok, questo è uno dei set più belli dei Pokémon Lo ritengo veramente tra i più belli anche per gli artwork che sono veramente fantastici Ok, poi questi sono i primi quattro set più importanti secondo me dei Pokémon Infatti li ho tutti completi Ecco qua Queste sono le rare, poi ci sono le comuni, non comuni Ecco qui Gli artwork sono veramente bellissimi Guardate qui Dark Goldak e Dark Jolton come sono belli Anche Dark Machok Bellissimi questi artwork Ovviamente le carte sono tutte in italiano Ecco qua Abbiamo quasi terminato anche quest'altro video Ecco qua Cominciano le carte di destramento Anche se qui in questo set sono belle perché riprendono Giovanni Il Professor Occo e l'Impostore Sono un po' più fighe diciamo così Per finire abbiamo la fuoriserie di Dark Raichu Sempre in punizione sbustata personalmente Questa carta è veramente bellissima Lo potete vedere anche voi E se l'avete Potete affermare ciò che ho detto Ok ragazzi pure per quest'altro video è tutto Vi ricordo di mettere un bel like E di iscrivervi al canale Ci vediamo al prossimo video Del prossimo set Pokémon Un saluto Ciao